Adesso si prosegue, abbiamo una collega, una presentatrice, un volto molto noto della televisione e soprattutto anche una prossima futura giornalista, Michela Italia. Grazie. A consegnare il premio la dottoressa Viviana Travaglini. Buonasera. Ciao Salvo. Ciao. Allora leggiamo la motivazione e poi scambiamo qualche parola. Studiosa di spettacolo, presentatrice, prossima giornalista e la biografa ufficiale dell'attore catanese Tuccio Musumeci. Premio Pippo Bertoni a Michela Italia per la sua versatilità, per la capacità di utilizzare un linguaggio nuovo e raffinato creando un disegno d'assieme in cui convivono felicemente pluralità e soggettività. Consegna il premio la dottoressa Viviana Travaglini dell'Università di Messina. Grazie. Grazie. E' strano stavolta essere dall'altra parte, salvo io di solito intervisto, posso intervistarti? Cosa si prova a presentare ad Augusto è la prima volta? No comment. No, no, non sto scherzando. Beh, è un'esperienza ovviamente unica, è molto bello. Io penso, leggo nei tuoi occhi sinceramente, perché sai la televisione sì è bella, però leggo nei tuoi occhi che avresti voluto essere qui al mio posto. Ma guarda, ti dirò, stavolta mi piace prendere un premio, cioè poi un premio alla sicilianità. Tu pensa, io di solito cammino con un pupo al collo in argento e non solo il lavoro su Tuccio Musumeci che mi accompagna, mi accompagna proprio per la vita. Poi due lauree, questa è una laurea. Questa è la specialistica, la triennale era con Sugetano Manuel Calì, il compositore di VV Dormite Ancora. Oltre a quello uno spettacolo mio che si chiama Canti e Conti, che è un viaggio in Sicilia e una nuova programmazione per Web Marte, che è una tv che tu conosci perché hai lavorato prima per Tele Marte con i colleghi Lorenzo Daniele e Mauro Italia che li salutiamo. Io notavo, l'ha notato anche l'attore, non anticipiamo, abbiamo un attore, uno tra i più grandi attori questa sera, amici telespettatori, restate lì incollate davanti al teleschermo perché veramente è un onore per tutti noi avere ospite questo attore. Notavo la tua dizione. Ah grazie, ti ringrazio. Eh, è una dizione che... Però ti assicuro che è un buonissimo a parte in Sicilia, cioè il mio mi viene magari meglio, cioè ti posso dire di non chiuso con gli hanno cutture, se non cutture, 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 cutture... Però posso tornare serenamente all'italiano, senza difficoltà, il siciliano è un grande potenziale, va curato. So che tu stai curando la dizione, eh? Sì, ho fatto un corso di recitazione, di dizione che serve sempre, serve soprattutto per la respirazione, per non arrivare senza fiato. Questo sì, sicuramente. Io sono felicissima di questo premio e soprattutto perché non solo per la personalità a cui è legato, ma proprio per il rapporto personale che ho con questa terra. Per questo, quindi vi ringrazio. Grazie a Michela Italia. Grazie. Grazie. Grazie.